Le chiacchiere stanno a zero, così Pietro Lomonaco ha esordito stamattina, pochi minuti dopo essere arrivato a Palazzo Zanca per il faccia a faccia con il sindaco a Corinti sulla situazione della CR Messina. Il patron della società ha fatto benintendere di non essere stato per nulla soddisfatto dalle risposte date ieri in conferenza stampa dal sindaco a Corinti, che ha rimarcato tutto l'impegno dell'amministrazione comunale sulla questione San Filippo e su altri fronti caldi del calcio messinese. Non c'è stata alcuna apertura da parte del primo cittadino, ha sottolineato il numero uno del Messina, dopo poche battute con la stampa ha iniziato l'incontro, durato oltre due ore. A porti chiuse si sono trovati faccia a faccia il sindaco, l'assessore Sergio De Colalo, Monaco, il vicepresidente della società, Niki Patti, e il responsabile comunicazione della CR, Vittorio Fiumanò. Il confronto, caratterizzato da toni piuttosto asperi, si è concentrato essenzialmente sulle condizioni dello stadio San Filippo, con l'amministrazione che ha rimarcato di aver fatto tutto quanto in suo potere per rendere l'aria più idonea possibile allo svolgimento del prossimo campionato. Come un elastico, le accuse di Lomonaco sono rimbalzate dalla concessione per un mese dello stadio, approvata dall'Aggiunta per i concerti di Vasco Rossi e Giovanotti, al concentrarsi quasi esclusivamente sulle problematiche dell'impianto.